Buongiorno e buona giornata mondiale della poesia. Mi chiamo Domenico Ponticelli, vivo a Colle di Valdezza in provincia di Siena e voglio dedicare questo mio componimento alle mani che più di ogni altra cosa subiscono la lontananza e il distacco a causa di questo momento che giustamente ci viene imposto. Le nostre mani hanno solchi su cui camminiamo, hanno occhi con cui guardiamo, hanno l'odore della storia, la nostra, scrivono ricordi nella memoria, hanno letto libri, hanno asciugato lacrime, hanno riso a crepapelle. Le nostre mani viaggiano nel mondo, gustano sapori, sfiorano arte e l'oro il dono del conforto e della gioia. Le nostre mani sono blu come il mare, sono reti con cui peschiamo, si cercano nell'acqua come ondivaghe meduse. Le nostre mani amano senza parole, oltre la carne, parlano senza suono e sanno essere felici prima di noi. In esse c'è il nostro cuore che lì, in mezzo a loro, non fa rumore.